Nasce Speed, la nuova soluzione per accedere a tutti i servizi online con un'unica identità digitale. Prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, situazione contributiva, pratiche di impresa, qualsiasi servizio che richieda un'autenticazione sarà accessibile da pc, smartphone e tablet con la stessa username e password. Per ottenere Speed puoi rivolgerti ad uno dei gestori d'identità accreditati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. La tua identità sarà verificata e ti verranno fornite le credenziali che potrai utilizzare ad ogni accesso. Esistono tre livelli di Speed. Ciascuno corrisponde ad una crescente necessità di sicurezza. La tua identità Speed è garantita. Il sistema infatti assicura la piena tutela della privacy e dei dati sensibili dell'utente. L'identità digitale Speed diventa la tua chiave d'accesso a tutti i servizi della pubblica amministrazione e dei privati che vorranno gestire in maniera semplice, sicura e veloce la fase di autenticazione e propri servizi online. Speed. Tutti i servizi a portata di click. Con un'unica identità digitale.